Una delle società che si conferma al Mediolanum Baby Cup è quella del Sermoneta. Siamo con Fabio Pinti, dirigente responsabile. Allora, che cosa ti aspetti da questa sesta elezione del Mediolanum Baby Cup? I valori soprattutto sono gli stessi che poi voi esprimete nella vostra società. Sì, noi contiamo tanto su questo torneo perché è un torneo che permette di far giocare tanti ragazzini, tanti ragazzi che purtroppo non hanno spazio in senso proprio di tornei perché la federazione organizza un torneo solo e chi ha tante società ha difficoltà a far divertire questi ragazzi poi alla fine. Questo torneo a noi è stato sempre preso a cuore, a noi ci piace tanto, infatti noi veniamo quasi con tutte le categorie. Quest'anno, ecco, ci dispiace per il 2004 che faranno un altro tipo di torneo, però il 2005, il 2006, il 2007, il 2008, il 2009 sicuramente il Sermoneta c'è. L'impressione è che tutte le società che vogliono far muovere i primi passi dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista della crescita umana facciano il torneo, facciano il Mediolanum Baby Cup che negli anni ha sempre visto crescere i propri numeri. Questo vuol dire che comunque l'interesse generale da parte delle società è proprio quello di poter aggregare, di poter condividere dei valori comuni e di poter anche far crescere i ragazzi sotto questo punto di vista. Sì, guarda, ti dico una cosa, devono essere dei pari passo, cioè chi organizza e le società se cresce vuol dire che comunque chi sta organizzando sta lavorando ogni anno sempre per migliorare le situazioni e le società comunque sono quasi sempre le stesse, ha incrementato, vuol dire che comunque credano nel lavoro che fa Peppe e chi per esso. Perciò penso che si sta comportando bene, in questi anni i numeri sono alla sua parte, non c'è poi di niente.